Stefano Di Cerbo, probabilmente vedremo cose diverse, Stefano è allenatore nazionale, è formatore della federazione, allena il settore giovanile, è la prima squadra del college basket di Borgomanero, ha giocato le ultime due finali scudetto, è stato il migliore allenatore nel 21-22 a Ragusa, è stato scelto come migliore allenatore dei campionati, è sempre allenato questi gruppi, ma la cosa che è importante è che moltissimi giocatori allenati da Stefano e reclutati e seguiti da Borgomanero sono arrivati in nazionale, David Oqueque, Leonardo Oqueque, Alessandro Ferrari, Francesco Ferrari, Gabriel Puzzato, Andrea Cecchi, Alfredo Boglio, Andrea Loro ed altri. La lezione di Stefano è l'evoluzione tecnico-tattica di un giocatore da un gioco libero a un gioco a termine. Stefano Di Cerbo. Grazie. Mi metto a lato, va bene. Allora, buongiorno a tutti. Allora, il titolo è molto effetto wow, ma in realtà farò vedere quello che ogni giorno e ogni stagione cerchiamo di fare in palestra per arrivare a raggiungere il massimo livello per ogni giocatore. Negli anni che, quando ho iniziato a allenare, fino adesso mi piace sempre confrontarmi con allenatori di alto livello. Conosco bene Edo Casalone, quindi lo sento spesso, e la domanda agli allenatori senior di alto livello è sempre la stessa quella che faccio. È cosa vuoi che un giocatore sappia fare quando entra con te in palestra? Questa è la prima. La seconda è cosa gli serve per riuscire a giocare al tuo livello. Quindi Edo allena, fa l'assistente alla Svel in Eurolega, è l'assistente nazionale, penso che sia il massimo livello in Europa. E lui, ridendo oppure no, alla mia parola, cosa ti serve per lanciare un giocatore uscito alle giovanili in prima squadra? La sua risposta è stata, lanciare dove? Dalla finestra? E questo, che fa ridere, ma è il primo impatto. Il primo impatto è non sono pronti. Non sono pronti per giocare ad alto livello. Non sono pronti perché pensano a cose extra e non si concentrano sul campo. Appunto per questo io ho cercato di togliere tutti i fronzoli, tutte le cose esterne dal campo, ma di concentrarsi sul 28 per 15. E a tutti i giocatori che alleno, che vengono nella nostra società da anni oramai, cioè quello che conta, quello che dico, quello che conta è quello che facciamo qui, quello che facciamo per noi stessi, quello che facciamo per il nostro compagno, quello che facciamo per la squadra. Tutto quello fuori, buon segnale, tutto quello fuori, non c'entra niente, niente per giocare a pallacanestro. Edo mi dice che è importantissimo per lui la conoscenza del gioco, quindi il saper conoscere, riconoscere e giocare in una determinata situazione, e caratteristiche tecnico-atletiche, cioè fisico-atletiche. Sul fisico-atletiche, sapete meglio di me, il gioco è portato a un'esplosività sempre maggiore, ma la conoscenza del gioco, serviamo tanto noi. Adesso va molto di moda, è uscito da poco, Trinchieri's Way, penso che tutti l'abbiate visto. Io sono stato una settimana, quando allenava a Belgrado, da Andrea Trinchieri a vedere cosa faceva, come allenava, oltre che essere un genio in quello che fa. Lui sull'intervista su YouTube della Serie A chiede a Galbiati quali sono le tre caratteristiche per far giocare un giocatore uscito dalla Serie A delle giovanili in Serie A. E lui identifica tre aspetti. Fare canestro da liberi, difendere come un assassino, cito proprio la frase, e passare benissimo la palla. Da questi tre aspetti, quello che io ho colto, la prima cosa è che parliamo di palla canestro. Chi non può far canestro difficilmente potrà giocare ad alto livello. quindi il fondamentale, il tiro, diventa determinante per il mio lavoro. Cioè, tutti i miei giocatori, tutti, partiamo dalla tecnica di tiro. Ok? Chiaramente, da quando hanno una conformazione muscolare un po' più specifica, quando sono bambini, comunque, il gesto di spezzare il polso è importantissimo e tirare la palla dall'alto. Ok? Difendere come un assassino, quindi anche del carattere, del non farsi battere l'uno contro uno, e il passare benissimo la palla, l'ho tradotto un po' come a chi deve andare la palla in un determinato momento. Quindi, lo riassumo un po' nella conoscenza del gioco. ho un il mio punto fisso è che tutto, e dico tutto, parte dal gioco. Io alleno la prima squadra a Borgomanero, facciamo la Binta regionale, ogni anno cambiamo perché ogni anno ci vanno via dei giocatori, la prima settimana è solo 5 contro 5. Solo 5 contro 5. chiaramente non prolungato, perché arrivano da un'estate, avranno avuto i programmi, ma sapete benissimo che all'inizio della stagione è un po' così, ma è tutto 5 contro 5, perché sono convinto che tutto derivi, parta dal gioco. Ok? e abbiamo studiato nella nostra società questa sorta di ruota che tutto parte dal gioco. Il gioco ci crea un problema che sia un problema fondamentale del palleggio, che sia un problema di conoscenza del gioco. La palla non doveva andare in post basso, ma doveva andare sul lato debole. Sto dicendo cose abbastanza grosse che potete capire benissimo tutti, ma se noi non partiamo dal gioco, ma partiamo invece dall'1 contro 0 a secco, magari un giocatore sa benissimo di palleggiare, cioè o meglio pensa di saper palleggiare benissimo, ma se lo mettiamo dentro al gioco, magari dopo 3 palleggi non riesce a guardare i compagni passare alla palla, quindi il gioco ti crea il problema. Adesso entriamo noi in questa ruota, noi allenatori, nel momento in cui il gioco ci evidenzia il problema, ok, cioè ci crea un problema, noi dobbiamo evidenziare questo problema, renderlo visibile per il giocatore. Qua ci sono due aspetti a cui tengo e ho avuto a che fare anche con persone un po' diverse da me. evidenziare un problema, ok, non vuol dire far rimanere male il giocatore, ok, non sai palleggiare, punto, no, dobbiamo migliorare il palleggio con la mano debole, è totalmente diverso a dire a un ragazzo non sai palleggiare, boom, passa la palla, ma il gioco ha evidenziato che lui non sa palleggiare o che ha difficoltà con la mano debole, allora noi lo evidenziamo aiutandolo, creandogli un bisogno di soluzione, cioè deve partire da lui. Evidenziare un problema adesso può essere anche fargli vedere un pezzetto di partita, tanto guardano talmente tanti video, ok, e gli facciamo vedere lui che gioca, ok, e allora è da lui che arriva questo bisogno di soluzione, questo di dire ok, va bene, devo imparare a palleggiare con la mano sinistra, va bene? Nel momento in cui abbiamo una sua esigenza, un suo bisogno, allora c'è l'allenamento tecnico e l'allenamento di squadra. L'allenamento di tecnica si parla di fondamentali puri, che sia a secco quindi contro zero o che sia con un difensore, quindi il fondamentale all'interno dell'uno contro uno, per poi ritornare all'allenamento di squadra e ritornare al gioco ed è sempre questa ruota, sempre, parte tutto dal gioco e finisce tutto dal gioco, ok? Se non sono chiaro interrompetemi senza problemi. Cosa significa, cioè cosa implica questa ruota? Che il giocatore, quindi chi è più inesperto tra noi allenatori, chi c'è in campo ci sono i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, noi prendiamo in considerazione i giocatori e i allenatori. l'inesperto, quindi il giocatore, ok? Non viene messo a servizio nostro, ok? Cioè non sfrutto un giocatore per vincere due partite, non me ne frega niente, quelle due partite lì le perderò, ok? E va bene, e mi prendo la cazziata del mio direttore sportivo ma non me ne frega niente, ok? vi faccio un esempio successo quest'anno, noi oggi quest'anno ottobre, novembre andiamo a giocare con la Serie B interregionale, noi il primo tempo facciamo 67 punti, ok? Loro ne fanno 52 e noi perdiamo la partita 104 a 98, ok? Ma io potevo benissimo vincere quella partita facendo un escamotage tattico, ma essendo inizio stagione se io non li responsabilizzo nell'uno contro uno poi loro cercheranno sempre un escamotage tattico per non difendere. E allora io ho perso quella partita, ahimè qualcuno l'ha vista, vero Roncari, quindi, ok? e poi il mio playmaker ha imparato nel tempo a difendere su un piccherò centrale, ok? Il giocatore viene messo in condizione totale, ma totale, di fare esperienza, lui in prima persona, di poter sbagliare. non sono un santo, non mi hanno incominciato le pratiche per la verificazione, non sbagliare all'infinito, di poter sbagliare e accorgersi, siccome è un gioco di squadra, che un altro giocatore è meglio di me in quel preciso momento, ma il giocatore è al centro di qualsiasi cosa noi facciamo in palestra, che sia un allenamento, che sia un allenamento tecnico, che sia un allenamento di squadra, che sia la partita, che sia un torneo, è tutto concentrato su di lui. Ok? Uh, funzionato. Ci si, è già finito, basta, finito. Avete domande fino a qui? Nessuna? Benissimo. Quindi, bisogna mettersi in gioco, bisogna provare a sbagliare, va bene? E se c'è l'errore, non è un problema, perché ritorniamo alla ruota di prima, c'è un errore, il gioco evidenzia un problema che abbiamo, perfetto, allora lo andiamo a migliorare in palestra. oltre al 5 contro 5, adesso vi chiamo in causa, ok? Siete pronti? Bravissimi. Penso che la palla canestro sia un gioco di sovrannumeri, quindi il nostro obiettivo, il mio obiettivo, è creare il 2 contro 1 in ogni situazione, che sia tutto campo, che sia metà campo, che sia dall'1 contro 1 con la palla, che sia dall'1 contro 1 senza palla, o che sia una situazione di blocchi, quindi pick and roll o uscite, ma è sempre ad arrivare a un 2 contro 1, creare questo vantaggio. Noi abbiamo, facendo formazione o facendo, andando a Bormio negli anni da corsista, mi hanno tempestato con la frase creare, mantenere, concretizzare un vantaggio, che è una cosa bellissima in teoria, ma in pratica si fa fatica a spiegare. Ho avuto la fortuna di avere Alex Sarama nella nostra società e lui ha semplificato estremamente questo concetto con il gioco del domino. Avete giocato tutti a domino, penso, nella vostra vita, i mattoncini che... questo è creare, mantenere e concretizzare un vantaggio. Partire da una cosa semplice per arrivare al nostro risultato. Ok? E questo è quello che provo a dire ai giocatori ogni giorno. Partiamo dal campo. La cosa più importante è creare sovrannumere, quindi la cosa più importante è saper occupare gli spazi. Tutti con la palla. Diamo, dai. Su. Diamo, vai. Forza. Vai. Stop. Fermi. Fermi. Ok. Ma questa è la prima cosa che si verifica, eh? Prima cosa che si verifica. Tutti hanno tirato da sotto. Tutti. Nessuno ha guardato se poteva tirare da tre punti. Nessuno ha guardato se c'era un compagno che stava andando a tirare quindi lasciava andare a tirare lui e poi tiravo io. Lo so che sembrano delle sciocchezze e cerco di essere fine ma è quello su cui io lavoro ogni giorno anche con l'Under-19. Ok? Andate dall'altra parte, muovetevi un po' più velocemente, cercate di tirare cercate di tirare Non insieme da un altro. Via! Andiamo! Vai! Forza! Ok, stop! Come ti chiami? Come ti chiami? Tommaso è stato l'unico che ha visto di là assolutamente piena quindi la coda alle poste e ha detto vabbè, che problema c'è? Io ritorno di qua e tiro. L'unico che ha guardato ha detto ok, va bene, di là è pieno vai, tiro di qua che è libero. Va bene? Ed è con i bambini l'Under 13 chiaramente noi abbiamo poi sei canestre quindi si tira in un canestro diverso ogni volta la capacità di guardare è un aspetto fondamentale quello che alleniamo capacità di guardare con la palla quindi anche il fondamentale guardare palleggiando adesso palleggiando senza un difensore però tutto quell'aspetto di guardare ok? Che è la base la seconda cosa è occupare gli spazi se io voglio arrivare a giocare ad altissimo livello un 2 contro 1 voglio che il mio giocatore sappia andare nello spazio libero ok? Chiaro? Adesso siete sparsi ok? Tommaso e Stefano bel nome bravo e Stefano ok? Prendono ci siamo? O come si fa a prendere? Ok? vi basta toccarvi non rubare la palla toccare ogni volta che siete presi dovete fare canestro per tornare in gioco ok? Prendete sempre voi due ci siamo vai via vai vai ci sono preso vai vai basta toccarlo via ok stop vedete già che gli spazi sono diversi anche se questa fascia qui del campo non era concepita per scappare bisogna andare lontano da chi prende adesso non prendo loro prendi come ti chiami? Leonardo eh? Salvatore via senza palla voi due ok? dovete rubare la palla chiaro? per prendere un giocatore deve scappare e tenere la palla se voi rubate la palla lui è preso lui va a prendere chiaro? ok? per tutti via andiamo ok riduciamo lo spazio solo in questa metà campo andiamo vai solo in questa metà campo vieni di qua di qua di qua di qua solo in questa vieni vieni vai vai rubata rubata prendi 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 vai 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 ok stop grazie questo giochino che sembra il giochino del mini basket implica anche agli altri che non stanno giocando l'uno contro uno a guardare perché come ti chiami? Stefano anche tu fantastico questa società lui è stata rubata la palla perché era fermo a guardare che stavano che stavano giocando uno contro uno è arrivato l'altro e gliel'ha fregata ok giochini semplici sciocchi ok ma che servono solo a occupare lo spazio e a guardare chi non ha la palla la prenda vai via andiamo allora guarda adesso vi mettete a coppie tutti con la palla adesso ritornate tutto campo senza problemi uno della coppia prende l'altro scappa ci siamo? ok liberi va bene allora partiamo in questa maniera tu parti qua partite a due passi di distanza ok chi comanda è quello in attacco chiaramente quello che scappa va bene ci siamo? non dovete farvi prendere ci siamo? avete dieci secondi potete levare lo schermo non vedete? ah per la ripresa si si poi lo rimettiamo dopo al massimo eh? ok chiaro? pronti? dieci secondi avete pronti? via dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno stop qualcuno è stato preso? ok pronti? si inverte pronti? sei stato preso? pronti? ci siamo? via dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due ok stop benissimo adesso facciamo l'evoluzione chi scappa di voi? tu scappi tu prendi tu puoi prenderlo solo quando è in movimento quando è fermo lui non può essere preso io ti prendo dammi la palla io posso prenderti in questa posizione qua non posso prenderti se tu ti muovi no no tu puoi palleggiare anche da fermo ok se tu ti muovi io posso prenderti ok capito? si o no? si? ogni volta che vengo preso adesso non è più a tempo ogni volta che vengo preso inverto quindi io sono stato preso adesso io prendo ci siamo? pronti? dai sono già le undici cioè le qualità celebrali sono attive giusto? perfetto siete pronti? aspetta che mi levo perché questo fa un po' paura un po' più un caos ci siamo? vai via preso vai 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 ok stop questa è una semplice evoluzione ma proprio sciocca ma facendo questo giochino dai bambini di tredici anni a quelli di anni diciannove allenano oltre la capacità di palleggiare la capacità di tenere il palleggio attivo se si devono fermare la capacità di ripartenza la capacità di reazione perché chi aveva l'iniziativa qua l'attacco o la difesa l'attacco nel gioco chi ce l'ha l'iniziativa l'attacco o la difesa chiedo a voi la difesa l'iniziativa sei sicuro? per l'andarlo a prendere per l'andarlo a prendere ma chi scappa di solito l'iniziativa giusto? nel 5 contro 5 chi ha l'iniziativa? perché? perché? eh? sì ma perché può decidere quello che deve fare? perché c'ha la palla perché si chiama palla canestro chi non ha la palla non decide reagisce ok? può anticipare forse ma l'iniziativa ce l'ha l'attacco giusto? ok un altro giochino che io faccio è il seguente allora voglio vedere tutti i bianchi sulla riga di fondo una palla sola le altre posatele per favore tutti i bianchi sulla riga di fondo e il blu dall'altra parte vai allora ci siamo? si gioca 3 contro 3 invertire sapete cosa significa? allora 3 in campo blu 3 in campo bianchi ve lo spiego rapidamente vieni vai 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 dai 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 giochiamo ragazzi giochiamo partita 3 contro 3 ok? attacco difendo esco ok? nel momento in cui i blu difendono entrate voi dopo ad attaccare ci siamo? ok? molto semplice via vai si arriva a 7 via 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 partire partire via 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 subito subito via corri corri via 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 stop benissimo ok vieni poi ancora 3 contro 3 vieni siete pronti tanto io parlo dico due sciocchezze e poi rigiochiamo eh? avete sbagliato il tiro quindi la palla è bianca ah ok giusto? ok da questo 3 contro 3 in spazi molto ampi ok? ho visto delle semplici cose uno che chi corre senza palla non è mai davanti alla palla ma è sempre di fianco e la guarda come se fosse un oggetto incredibile da avere ma non va avanti al massimo sta di fianco chi parte davanti rallenta e si mette qui come se ci fosse un posto di blocco giusto? ho visto male? la palla principalmente viene palleggiata e non passata ok? adesso rifacciamo la stessa cosa 3 contro 3 invertire ma quando grido cambio quindi tu stai attaccando ok? tu lasci giù la palla e gli stessi 3 in campo riattaccano dall'altra parte ok? chiaro? dimmi contro di voi certo si 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 ok? ci siamo? rendiamolo più semplice voi no 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 tu stai qua voi sei fuori pronti con una palla e giochiamo 3 contro 3 fuori non giochiamo più a invertire rendiamolo più semplice ok? la palla ce l'hanno i bianchi pronti lì a metà campo tutti vai vieni ci siamo? si gioca va bene vince la prima squadra e si ha due canestri ok? via cambio andiamo 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 1 a 0 via via forza via gioca 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 contesa difesa quindi bianca bianca mi starò più simpatici vai cambio stop fermo questo è proprio quello che succede tutte le volte che lo faccio cambio chi era vicino alla palla tentenna ma comunque la prende gli altri due dietro lo guardano così allora quello che faccio io è nel momento in cui c'è cambio chi è vicino alla palla deve prenderla chi è lontano dalla palla deve sprintare a far canestro più velocemente possibile capito? quindi tu eri vicino alla palla sì l'hai presa eh no eh tu eri vicino alla palla no hai sprintato no ci siamo pronti dentro gli altri sei avete capito? avete capito? vai via gioca vai via 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 cambio corri senza palla corri avanti bravo bene cambio via via fanno andare ok stop benissimo poi passiamo ad un altro esercizio come ti chiami? sì Alberto tu? Matteo vieni qua con la palla riproduciamo quello che è successo vieni guarda eh tu eri dietro tu eri guardiano del faro tu eri dietro stop c'è un due contro uno qui? sì siete in contropiede? sì dove vai per far canestro? secondo te c'è il posto più facile per far canestro? sotto c'è vicino a canestro a canestro perché per me vicino è anche qua giusto? siamo vicini? sì ok vai a canestro ok parti da qua parti da qua vai a canestro torna indietro sei pronto? vai dritto a canestro non fare una curva vai dritto vai ok stop stavi facendo questo movimento qui? prima cosa stai facendo? una bella curva giusto? ok quello su cui io rompo le scatole tantissimo che in situazioni di sovrannumero semplice due contro uno ok al cinque contro quattro bisogna stringere a canestro con il giocatore più vicino a canestro non bisogna allargare il campo perché se io voglio far canestro il più velocemente possibile io devo andare a canestro dal due contro uno ed è uguale all'uno contro zero è un sovrannumero estremizzato forse sì ma se io dico a Matteo no vai via parti da qua vai a canestro in maniera più veloce possibile vai andiamo ok vabbè puoi tirare ok ok hai fatto curve no e allora il giocatore perché bisogna fare delle curve si va dritti e si gioca io non faccio esercizi fantasiosi è sempre un giocare dall'uno contro uno al cinque contro cinque sei in attacco sei in attacco ci siamo ok sei in difesa vieni qua ok poi mettetevi a terzetti un pallone per terzetto gli altri mettetevi a terzetti un pallone per terzetto giochiamo due contro uno raga tranquilli a terzetti un pallone per terzetto ci siamo ok tu palleggi vai a toccare la riga di metà campo ok tu devi solo andare raga fuori da balli giocano loro tre loro tre giocano ok i blu sono in attacco il bianco in difesa mettiamo due blu qua dietro mettiamo due blu qua dietro ok e un altro bianco qui bravissimo la palla ce l'ha un blu perfetto ok i blu toccano metà campo e attaccano di qui diciamo tu devi solo sorpassare la riga di tre punti e difendere diciamo via vai gioca vai ok vai via via andiamo andiamo vai vai gioca 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 bravi bene via andiamo vai 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 via andiamo gioca gioca continua 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 ok stop eccolo lì allora guarda questo è l'esempio calzante vieni vieni gli ultimi tre in campo vieni prima c'è stato un siccome è un difetto grosso che chi giocava senza palla all'attacco continuava a avere il torcicollo e guardare la palla per me non si deve fare cioè io sono con lui sto correndo avanti guardo il canestro se guardo il canestro fermo fermo io faccio schifo atleticamente se mi fai anche correre ok sto andando io guardo il canestro e la vedo qui non devo girare fermarmi sono qua adesso cosa è successo vieni tu hai attaccato questo spazio ma lui non difficile tu stavi attaccando quella mano lì giusto perfetto stop ti sei trovato in difficoltà vero? hai detto se stringo troppo come me la dà? non ce l'ho cioè è difficile bravo e quindi hai detto cosa hai fatto? uscire puoi uscire è la prima soluzione che trovano i ragazzi prima quello che vi capita da me poi magari voi allenate quelli bravi intelligenti e furvi io non ancora se ti chiedo di stringere a canestro giusto? e tu trovi una difficoltà perché lui sta attaccando verso il centro ok prova a stringere a canestro e trovare una soluzione bravo bravissimo facciamolo vedere meglio torna indietro tu eri già qua tu eri già qua vai 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 attacca vai 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 difendi eh ok stop sembrerà una stupidata ma loro è venuto così perché sono under 15 l'under 13 non viene così ok quindi io metto due coni e dico che bisogna attaccare il centro induco dove voglio arrivare io induco il due contro uno fino a dove voglio arrivare io messa nel gioco dei grandi cinque blu e cinque bianchi cinque blu in attacco cinque bianchi in difesa vai tieni la palla lì è bravissimo un interno mettiti tu mi ricordo già più il nome sì uguale uguale vabbè ok ci siamo tu sei scivolato e ti sei fatto battere sul centro stop vai vieni vieni cosa fai tu sì ok tu devi poter prendere un tiro bravo tu ok in modo molto semplice molto essenziale molto basilare nel due contro uno è il primo concetto di regola dell'orologio che io sto insegnando su quel movimento lì ok nel continuare a giocare senza palla per prendersi un tiro per dare una linea di passaggio poi più avanti si dirà un tiro ad alta percentuale in base al proprio range di tiro le proprie caratteristiche ma nel due contro uno nel contropiede tutti tutti per me devono correre al ferro e stringere fine un'altra cosa che torniamo due contro uno io ho messo un attimo cinque contro cinque ma torniamo due contro uno un'altra cosa che è importantissima soprattutto con quelli un po' più lunghetti immaginiamo che tu sei un po' più lunghetto e lento ok è la capacità di questo giocatore insieme al proprio compagno di attaccare adesso dico un termine incredibile lo spazio aereo e insegno da piccoli a passare la palla dentro al tabellone under 14 forse meglio ma se c'è l'under 13 sveglio via si va quindi nel momento in cui vai vai stai stringendo tu e tu sei lungo e lui non sa come passare la palla e la passi dentro il tabellone e lui fa canestro al volo per chi conosce le nostre squadre dove alleno noi giochiamo tantissime soluzioni al ferro tantissime ma perché li alleniamo da piccoli piccoli e non è che abbiamo degli atleti incredibili ok abbiamo della gente che impara la coordinazione mentre la palla gli arriva al volo quindi coordinarsi con due passi prendere il volo e tirare sbaglieranno tantissimo all'inizio ma a fine del percorso no ed è una situazione dal mio punto di vista poco marcabile pochissimo ad alto livello ok quindi noi abbiamo giocato due contro uno under 13 perfetto è solo questo e questo è quello che vi propongo nella prima settimana insieme al 5 contro 5 solo situazioni di due contro uno che siano due contro uno sul lato tieni la palla tu che adesso sei il difensore vieni 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 guarda è molto statico nel riscaldamento tu parti lì tu parti qua in guardia vieni parti dove c'è lo smile ok tu la passi dove vuoi ok sì e si gioca due contro uno cambio solo gli spazi non parto tutto campo perché magari qualcuno ha dei problemi a metà campo diviso in due terzetto 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 giochiamo così due contro uno vai 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 gioca semplice vai via vai ok molto semplice questo oppure vieni vieni qua tu vai sotto canestro vai sotto canestro tu la passi sotto 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 tu la passi a chi vuoi ok e si gioca due contro uno così lui è un po' più deve essere un po' più sveglio a capire dove potersi mettere ok tutte le situazioni di riscaldamento è due contro uno tutte va bene poi arriviamo all'under 14 ok nell'under 14 i concetti che introduciamo oltre a tutto il fatto di fare contropiede correre far andare la palla guardare avanti gli spazi è la figura del giocatore interno tutti possono andare dentro tutti avendo detto che in contropiede vogliamo stringere per fare contropiede mettiamo che non c'è contropiede chi ha stretto rimane lì e gioca interno e ci sono due semplici regole o la palla va dentro o si ribalta il lato ok faccio vedere molto semplicemente 5 contro 5 ancora vai diamo vieni vai ok vieni qua vieni qua bravo un ultimo dietro tu hai provato a fare contropiede sei sotto il ferro sotto il ferro bravo sotto il ferro si bravissimo tu fai andare la palla dove vuoi bravissimo gioca ma non mi interessa cosa fai puoi andare dal lato non mi interessa cosa fai gioco l'uno contro l'uno senza palla ti fermi fai quello che vuoi ok deve esserci un interno se non c'è un interno non va bene vuoi prenderlo tu vieni su lui esce allora o la palla va dentro e quindi giochiamo senza palla metteremo delle semplici regole chi ha passato la palla giocalo contro uno senza oppure quello opposto lì varia danno e anno non ci interessa molto oppure se vai torna sulla palla se non c'è la palla dentro la palla deve arrivare dall'altra parte bisogna ribaltare il lato e questo tra le virgolette induce crea tantissimo gioco senza palla e lavoriamo tantissimo sull'uno contro uno senza palla quindi tieni la palla tu ma semplice anticipa perfetto cosa facciamo via andiamo si va pum sempre tu puoi stare dentro o puoi stare fuori scegli tu non mi interessa tu stai ti piace stare dentro ok scusa ok è tutto così under 14 tutto così due semplici regole o la palla va dentro o viene ribaltato il lato fine domande fino a qui niente perfetto dall'under 15 invece incominciamo a giocare il nostro incominciamo a vedere il nostro sistema di gioco che è la princeton offense dall'under 15 fino alla prima squadra noi come base giochiamo la princeton offense due guardie due angoli e un post alto cioè lì è esattamente sul tiro libero partite un attimo dietro vai 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 ok ci siamo stop questo è lo schieramento iniziale ok dobbiamo capire il ritmo della partita per abbassare o gestire il ritmo della partita noi troviamo due modi o la palla va in post basso e caliamo il ritmo della partita ok oppure quando siamo grandi diciamo va bene allora chiamiamo cinque va bene perché giochiamo la princeton offense uno è un gioco di passaggi è un gioco di lettura senza palla è un gioco di che ti costringe a guardare e non a palleggiare è un sistema che permette a quelli alti lenti che non sono ancora pronti a livello atletico fisico di di essere protagonisti del gioco perché questa posizione qui quindi post alto da dove passa tutto noi mettiamo sempre quello più alto forse meno pronto per due semplici motivi uno tagli la palla può attaccare fronte e avere meno strada da fare quindi meno rischio di cadere e sentirsi passatemi il termine uno sfigato ok perché far attaccare uno due metri e sette vieni qua che ancora i muscoli non ce li ha a fare sette metri con un contatto con del palleggio si fa fatica gli facciamo fare quattro e mezzo gli togliamo un po' seconda obbliga tutti a guardare tutti dai la palla tu sei il playmaker come ti chiami? Alessio ok implica guardare già dalla prima situazione perché è un gioco di ingressi in base a dove va la palla ci sono diversi uno contro uno anticipa fortissimo non vuoi fargli ricevere anticipa fortissimo tu sei libero perché chiaramente quello un po' lungo bambinone senza muscoli viene sempre lasciato libero e lui fa qua il guardiano vai stop la prima cosa che diciamo ai nostri giocatori è di guardare i suoi occhi del post alto perché se tu con un giro dorsale ad aprile vai ok ti arriva la palla e fai questo lavoro qua vieni dai fai questo lavoro ok chiaro? fai questo e poi ti giri va bene vai prova un po' benissimo per una frazione di secondo quindi quando lui era qui siamo? tu vedevi loro ah no quindi tu potevi fare qualsiasi roba ma lui non ti vedeva quindi maraveno gli obblighiamo a guardare ma se tu vuoi giocare solo con questo lato di quarto di campo qua chiaramente veloce bravo gioca senza palla in base a lui ok e poi magari giochi con loro quindi obbliga chi non ha la palla a guardare chi ha la palla gli occhi e lui a fare delle scelte rapide ok questo è il primo motivo quelli grossi e lunghi a noi piacciono e li facciamo giocare e li mettiamo lì in una condizione tra virgolette di comfort non li esponiamo va bene metti pressione anticipa tu invece lui tu ti sei dimenticato di anticipare ok quindi lui è libero quindi dove è libero bisogna passare la palla vai passa la palla vai vai passa ok stop molto semplice un blocco cieco stop bravissimo perfetto e qui lui che è solito nostro 2,7 metri poi contate capacità di correre fermarsi fare un arresto colpire basta e ci sono tutte le letture tutte gioco a blocco cieco no no vai passa vai vai siamo già andati dai vai blocco cieco taglio davanti benissimo ok si gioca su questo sistema qui noi allenatore abbiamo zero controllo zero io non posso controllare una lettura non posso controllare cosa fa la difesa non posso controllare come reagisce il mio attacco perché è una lettura e quindi è totalmente in mano loro totalmente va bene allora blocco cieco poi ci sono varie soluzioni no vai vai tu hai giocato blocco cieco vai via stop ogni taglio deve finire per far canestro lì fai canestro o lì vuoi far canestro anche il blocco cieco deve finire lì vai avete cambiato dai dai finisci lì vai lì stai lì bravo chi è libero vai passagli la palla stop cosa fa il tuo eh no 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 fai così cosa ha fatto ha reagito quindi vai un blocco sul passaggio guardia e guardia blocco cieco e poi è libero è tutto a letture sempre con la regola di uno al massimo dentro e gli altri giocare senza palla e andare incontro torna indietro due guardie post alto ok anticipa 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 perfetto eh ci hanno fregato il gioco no c'è una regola che mettiamo già all'under 14 in realtà ma palleggio verso implica un uno contro uno senza palla quindi lui è anticipato giusto? gliela puoi dare? no lui è anticipato gliela puoi dare? no lui è anticipato gliela puoi dare? no allora vai in palleggio verso di lui gioco lo contro uno senza palla ok boh vedi si è già liberato lui cosa sta facendo il tuo difensore? puoi tagliare davanti? tu rompi le balle però lì perché esci lì? la vuoi la palla o no? sì e allora esci qua nel posto più vicino libero ok chiaro? molto semplice questa regola del palleggio verso gioco senza palla implica un aspetto molto importante per me torna indietro vabbè fai tu il playmaker tu stai lì tu vieni qua tu sei dall'altra parte abbiamo invertito tanto non ci interessa ok nel momento in cui il mio compagno con la palla decide di giocare verso di me col palleggio io ho due possibilità la prima è giocare per me quindi l'uno contro uno senza palla al ferro davanti dietro dipende cosa ti da lui guarda fai così vieni qua se non è poco credibile bravissimo tu qui scegli o giochi per te guarda quanto spazio hai per attaccare il ferro o la seconda possibilità è quella di giocare per un mio compagno il giocare per un mio compagno ok vuol dire portare un blocco e se porto un blocco devo farlo bene perché voglio liberare Tommaso no Tommaso Tommaso non ho mai azzeccato i nomi nella mia vita vai sprinta e blocca stop posso prevedere cosa vuole fare lui se giocare per se stesso o giocare per un compagno no e quindi è tutto in mano loro ok chiaro questo è tutto l'Under 15 non ho detto una cosa la nostra prima caratteristica è quella che vogliamo fare canestro il minor tempo possibile quindi vogliamo giocare tutto campo ok questa roba qui la Princeton è perché ad Under 15 bisogna cominciare a giocare anche a metà campo secondo noi quando giochiamo tutto campo c'è solo una cosa da guardare dopo che vogliamo fare contropiede cioè questa è la base far canestro nel minor tempo possibile una cosa bisogna guardare dove è il nostro lungo di riferimento eri tu il mio 2,7 metri senza muscoli se è primo quindi primo al ferro e anche lui se non prende il rimbalzo deve correre al ferro per fare contropiede in maniera veloce o se è ultimo ok se è primo giochiamo per lui stesso la regola di Under 14 o palla dentro o ribaltamento molto semplice ok se è ultimo o palla dentro o ribaltamento aggiungendo una cosa stiamo corriendo tutto campo tu sei il nostro 2,7 metri bellissimo tu stai arrivando ultimo tu hai il corso largo non siamo riusciti a fare contropiede la palla è qua vieni vieni vai 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 l'hai fatta andare lui è bravissimo stai anticipando non c'è noi vogliamo darlo ma non c'è gioca 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 tranquillo gioca ok vieni qua vai ok io preferisco la punta che allarghiamo un po' più gli spazi ma va bene lui ha una possibilità oltre a quale giocare dentro non di appesi in angolo perché se no lo faccio sentire ancora poverino uno sfigato ma di venire al gomito e quindi ritorno nella posizione di Princeton Office non centrale ma al gomito ok quindi io faccio io quello di 2 metri 7 bello su questa situazione forse ancora meglio guardo un lato guardo l'altro guardare gli occhi del post alto se tu stai lì abbiamo un problema vero? bravo quindi mentre mi muovo tu guardi bravissimo e giochiamo vieni da questa posizione lui è un po' più facilitato perché è più vicino al canestro voi giocate vuoi giocare non so lui ti difende così cosa fai? bravo lui poi le squadre diventano furbe ti frego io ti mando lì dove vai? vai vai perché non puoi? ah gli dai fastidio? porto l'uomo ok vieni ti faccio vedere come non gli dai fastidio vai 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 continui a seguire tu vai 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 ok? non gli dai fastidio e tu intanto andrai su ok? hai mai giocato un pick and roll? l'hai visti giocare giusto? ok invece che la palla andare verso il compagno senza sei tu quello senza va lì è uguale è uguale solo che ha il gomito non ti preoccupare ok? sempre con l'idea di gioco per me o gioco per il mio compagno tu puoi scegliere anche di giocare per lui cosa puoi fare per giocare per lui? vai scegli a me non interessa vai scegli oh via basta le regole sono molto semplici ok? chiaro fino a qui? spero di essere stato abbastanza chiaro datemi dei check sì? va bene corsa contropiede palla dentro ribaltamento ritmo del gioco il ritmo del gioco noi lo gestiamo con la Princeton che è con meno controllo possibile siccome non siamo non ci molliamo per la patria ad under 17 incominciamo a inserire dei giochi tra virgolette a termine ma solo di lettura e sono sempre i soliti due un gioco di pick and roll e un gioco di uscite ok? il gioco di pick and roll personalmente è il seguente palla qua vieni chi è il problema che è qua? sei tu vai tutti belli larghi vieni a bloccare un blocco stop vieni a portare basta un blocco subito a iniziazione da lì si gioca non è blocco poi ribaltamento poi riblocco no 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 un blocco soltanto e se e la la quello su cui lavoriamo tanto è lui no no vai 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 stai lì stai lì stai lì per favore sono due aspetti uno lui Tommaso prima di giocare il blocco deve giocare l'uno contro uno se lui aspetta il blocco e poi gioca il blocco non va bene non è quello che vogliamo noi ok? ma lui gioca l'uno contro uno stai bello basso così non ci rompiamo le scatole e non batte Tommaso 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 allora sì che serve il blocco perché serve a separare il suo difensore lui è bravo e lui non ce l'ha fatta allora qui sì ok? dopo il blocco c'è tutto il lavoro di senza palla che abbiamo fatto negli anni precedenti e riportiamo qua questo è il primo gioco di pick and roll semplice fine invece l'altro che usiamo spesso è zippere pick and roll vai lì vieni qua vieni qua con la palla perfetto dai blocco zipper quindi un blocco verticale vai prendi il blocco tranquillo ti guido io vai su passaggio e pick and roll ok? tu fai quello che vuoi puoi andare lì puoi andare dall'altra parte non mi interessa ok? uno perché penso che i pick and roll si dividano in due modi pick and roll statico con la palla in mano e pick and roll da uscita e lo zipper per me è il pick and roll da uscita che si può insegnare a giovanili perché nel momento in cui lì c'è un buon blocco è libero anche per dare la palla dentro quindi all'inizio va bene giochiamo pick and roll e tutti vogliono giocare pick and roll poi vi facciamo vedere che è un gioco totale va bene? e gioco Kinder faceva Ettore Messina tantissimi anni fa è il gioco di uscita vieni qua con la palla tu stai lì tu vieni qua vai dall'altra parte stai basso perfetto scusa parti qua in guardia blocco verticale no 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 blocca lui blocca lui vai passaggio intanto tu vai sotto canestro consegnato consegnato col playmaker bravissimo stop qua hai due uscite una alta blocca in allontanamento tu no 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 tu hai consegnato lui ti blocca vieni 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 non ti preoccupare vieni vai 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 ok e tu blocchi lui è un'uscita bassa molto semplice questo è complicatissimo è prima di arrivarci però incominciamo a introdurlo ad under 17 ma è totalmente a lettura è questa la difficoltà cioè non è o giochiamo un'uscita bassa per Ferrari no 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 l'under 17 Ferrari bloccava e se non bloccava bene non gli si dava la palla perché non era libero quindi cavoli suoi bisogna imparare a bloccare quindi se su queste situazioni blocca in allontanamento vieni torniamo indietro bravo tu bloccalo qua loro cambiano è una lettura quindi lui deve cioè si butterà dentro perché ha più vantaggio lui salterà fuori per attaccare in corsa ma incominciamo a introdurre dei giochi a termine ma di lettura ok chiaro mi state un po' annoiando mi sto facendo più giocare vabbè adesso è così questo è l'under 17 ad under 19 tutto quello che abbiamo riportato prima tutto corsa contro piede la prima cosa su cui noi ci basiamo in transizione quindi la capacità di riconoscere il cambio da parte offensiva a parte difensiva quando siamo in una transizione se il lungo è primo o il lungo è ultimo preset offense con tutte le letture adesso vi faccio vedere quella un po' più evoluta gioco di uscite gioco di pick and roll e adesso ad under 19 introduciamo il gioco a termine cioè la palla la vogliamo far arrivare a lui a lui in quella determinata cosa perché ad under 19 perché sono estremamente convinto che la specializzazione del ruolo sia un playmaker sia una guardia che sia un 4 un 5 un 6 si può fare quando la struttura fisica è consona a poterlo fare e la prinze tonoffice ci aiuta a far trattare la palla ai bambinoni perché li mette vicino a canestro passiamo sempre da lui post alto e si sente parte del gioco tantissimo tantissimo e ad under 19 quindi da secondo anno under 17 e tutti i due anni under 19 andiamo a specializzare il giocatore ok e con giochi a termine in specifico non sto qua a farveli vedere perché ne sapete più di me io ne so due e faccio sempre quei due lì ok tanto o è un gioco per un lungo o è un gioco per un esterno o è un gioco per il playmaker basta fine quindi la cosa che introduciamo ad under 19 sulla princeton offence è questa semplice lettura tornate prima due guardie due angoli un post alto ok e traviate il taglio a forbice quindi la palla sarà è volata in ala vai ok via taglia e questo è una sorta di gioco a termine via no guarda si si va bene vai di là tu taglia davanti per favore ok fermati lì vai 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 salta su vieni vai via ribalta ribalta blocco orizzontale vieni e blocco verticale T game ok ma ad under 19 vi facciamo vedere che da quello che hanno giocato ad under 15 si può anche avere una lettura codificata che è 5 per un giocatore spalle o per un'uscita molto semplice ok io vi ringrazio finito con voi grazie e ho quasi finito anche qua sono estremamente convinto che con questo modo di giocare e di presentare soprattutto presentare l'allenamento e mi spiego quando ero ragazzino quando ho iniziato allenare 16, 17, 18 anni quando ho preso la prima tessera stavo a pensare tantissimo agli esercizi coreografici delle robe incredibili 40 file 7 palloni uno fa questo ok mi sono accorto che poi negli anni sono delle grosse sciocchezze non faccio esercizi coreografici li faccio giocare uno contro uno due contro due tre contro tre e quello che li migliora è la nostra correzione focalizzarsi su un obiettivo focalizzarsi sul tiro focalizzarsi sul palleggio focalizzarsi sullo scivolamento difensivo adesso ho parlato solo di attacco quindi mi viene abbastanza facile ma non andare a costruirgli attorno la coreografia togliere queste cose qui toglierle quello che conta è solo il campo la nostra struttura d'allenamento è tutti i giorni mezz'ora o 40 minuti fondamentali un'ora e un quarto massimo un'ora e mezza di squadra ok per ogni singolo giocatore più lavoro atletico e di pesi ok sui fondamentali non lavoriamo allenatore assistente ma siamo coinvolti tutti l'allenatore nostro struttura giovanile nel senso che poi è logico che chi tira le file siamo in due o tre quindi con Benzoni che ha 44 anni voi penso conosciate benissimo fa fondamentali uguale a Zanetti che è un 2005 ok identico il lavoro è identico ok ma sono tutti sentati su questo se non si migliora il fondamentale è impossibile migliorare il gioco quindi si parte sempre dal fondamentale sempre aggiunto all'uno contro uno fondamentale a secco non sono un fan di fondamentale a secco quando c'è la tecnica la tecnica va applicata in una situazione agonistica io avrei finito se avete domande sono qua se no cambiamo non ci sono domande perfetto grazie a tutti Grazie a tutti.